amati discepoli ma soprattutto amatissime pecorelle in queste settimane in fauste il mio ruolo di padre spirituale non è mai venuto meno come sapete sul social semi sconosciuto chiamato instagram ho offerto il mio servizio gratuito di confessioni online tenendovi compagnia mentre state a casa e garantendovi la salvezza ma siccome siete degli ingordi e non vi basta mai ho un'ottima notizia per voi che non sapete come passare il tempo da oggi è disponibile il poliniani digital books con le versioni digitali dei titoli della scuderia poliniani compresa la mia raccolta confessions la decisione di dar vita a uno store digitale vuole essere una risposta alle nuove esigenze sorte a seguito dell'epidemia primo diminuire il carico sui corrieri l'organizzazione mondiale della sanità ha detto che dobbiamo stare a casa è sempre tutto chiaro ma questo ovviamente ha aumentato il numero di ordini online con conseguente via vai frenetico dei corrieri su tutto il territorio nazionale come potrete capire questa è una situazione che cozza con i tentativi di arginare il contagio tant'è che ha spinto alcuni grossi distributori a prendere provvedimenti dando priorità ad alcuni prodotti di primaria importanza e a ritardare notevolmente l'invio di quelli considerati non necessari secondo c'è crisi molti stanno avendo notevoli ripercussioni economiche e persino l'acquisto di un fumetto o di un libro può risultare pesante ebbene sul poliniani digital books potete trovare i volumi a un prezzo stracciatissimo ma che dico stracciatissimo basso quando tutto tornerà alla normalità se vi dovesse venire voglia di possedere la versione cartacea potrete farlo con lo storno di quanto speso per quella digitale e se nei giorni scorsi avete già ordinato una versione cartacea che non vi è ancora arrivata a casa ebbene a breve riceverete la versione digitale gratuitamente last but not least sul sito potete godere di succulenti anteprime e in un minuto e mezzo avere accesso alla versione integrale dei volumi senza dover attendere l'arrivo a casa e o non è la quarantena più bella della vostra vita poliniani digital books il mondo sta cambiando cambia col mondo